Vale un milione e mezzo di euro il bando che la Giunta regionale della Toscana ha approvato a fine 2018 a sostegno dell'informazione locale e del lavoro giornalistico, presentato a Firenze dall'assessore regionale alla Presidenza Vittorio Bugli, dal presidente dell'Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci e dal consigliere dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Domenico Guarino. Il bando, che nasce dalla legge regionale del 2013 a sostegno dell'informazione, ha un obiettivo preciso. Vuole sostenere una informazione locale, toscana, di qualità, fatta da strutture come le vostre di qualità, perché terrà di conto anche di quelle, come dice la norma, di quelle che sono aziende, strutture che fanno uso di giornalisti scritti, fanno uso di personale non precario. Al bando possono accedere micro, piccole e medie imprese editoriali, contestate giornalistiche che appartengano alle categorie delle emittenti televisive, radio via etere, quotidiani e periodici online, agenzie di stampa. Tra i requisiti di ammissibilità, la regolarità dei lavoratori e quella previdenziale delle imprese. Questi soldi che arrivano, io mi auguro che gli editori li usino nel modo migliore, quindi anche per ampliare i posti di lavoro, anche per ampliare la loro attività, impostandola sui giornalisti, sugli operatori, sui tecnici, su tutti coloro che servono per mandare in onda un'informazione di qualità. Ad essere finanziati con un contributo fino all'80% della spesa sostenuta saranno progetti informativi innovativi, sia sul piano tecnico che dei contenuti, con particolare attenzione all'informazione istituzionale. Gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi sono davvero importanti, vorrei sottolineare il rapporto virtuoso con le istituzioni, che quando capiscono che l'informazione di qualità va non solamente protetta, ma anche incentivata, riescono a fare delle cose gregge. Grazie. 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 Grazie.